Scusi, mi puoi ripetere il nome? Rogiamagna Rogiamagna Sì, che poi adesso oggi no, ma andando avanti nel percorso la ritravo così Di qui c'è sempre Rogiamagna E' veramente bella quella Ci sono ancora un po' di pesci interessanti Ci sono tanti furi Voi lo sapete, per chi non è di Vigevano, a ottobre la gente è di Vigevano Allora ti trovi il pensionato disabile che va i 300 all'ora con il GPS Per che furi? Non sto scherzando Fanno in giro con il GPS Scusi, è bello per ricordarsi dove vi viste No, c'è il GPS Ci sono scherzando